ciao a tutti ragazzi bentornati su starlightstube oggi nuovo review party dedicato al nuovo romanzo di un'autrice italiana che personalmente ammiro e rispetto e adoro sia come persona che come autrice e devo ammettere che questo suo nuovo romanzo lo aspettavo veramente veramente da tanto il libro in questione è questo i migliori anni di cinzia giorgio cinzia giorgio per quei pochi che non sanno chi è è una delle secondo me più rinomate autrici italiane degli ultimi tempi che ha già all'attivo almeno per newton compton la collezionista di libri proibiti la piccola libreria di venezia e la piccola bottega di parigi questo appunto se non sbaglio il esatto quarto libro più o meno che proprio romanzo che pubblica con con la newton che appunto ha organizzato questo review party e io li ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità di leggerlo in digitale in anteprima vi leggo velocissimamente la trama bando alle ciance aprile 1975 a soli 48 anni matilde carbiana sta per diventare nonna il nipote ha deciso di nascere proprio il giorno del suo compleanno eppure quello che dovrebbe essere un momento di grande gioia pare turbarla e il turbamento arriva da lontano estate 1943 la cittadina di venosa è occupata dai nazisti che terrorizzano gli abitanti matilde giovane e determinata non ha intenzione di rimanere confinata nella provincia lucana vuole convincere il padre vice prefetto della cittadina a lasciarla andare a bari per completare gli studi fausto che a carbiana accetta ma a patto che la compagni suo fratello antonio a bari nella pensione che li ospita vivono altri studenti tra cui gregorio un giovane medico l'antepatia iniziale che matilde nutre per lui si trasforma presto in un sentimento profondo ma la guerra e gli eventi avversi rischiano di separarli proprio quando hanno capito di non poter più fare a meno l'una dell'altro matilde si troverà su un malgrado di fronte a scelte più grandi di lei che cambieranno per sempre la sua vita e non soltanto la sua innanzitutto voglio farvi vedere non so se ci riesco queste bellissime foto non so se riuscirete a vederle per bene eccole qua spero che siete riusciti a vederle bene questo libro si può dire che è tratto da una storia vera perché questa è la storia della vera nonna di cinzia giorgio infatti se avete seguito la diretta che abbiamo fatto io e lei qualche giorno fa ovvero il giorno proprio l'abbiamo mi raccomando andate nel link in bio per seguirmi sul mio account instagram ogni tanto appunto faccio anche delle live con questi giovani e promettenti autori italiani che vogliono magari pubblicizzare il proprio libro si chiacchiera se si possono fare domande si fanno piccole interviste cose così cinzia appunto mi ha raccontato molti aneddoti su questo libro questo libro appunto l'aveva cominciato a scriverlo quando sua nonna era ancora viva purtroppo la nonna è venuta a mancare nel 2005 e lei diciamo che aveva perso un po la spinta diciamo di scriverlo perché comunque la perdita era terribile quindi non se la sentiva più di scriverlo senza di lei la sua editor grazie a dio l'ha convinta a scriverlo perché comunque è una storia stupenda e quindi meritava di finire in libreria così cinzia anche per sua nonna si è armata di volontà d'acciaio e ha finito questo splendido romanzo matilde appunto che appunto che la ragazza si chiama antonia maria matilde carbiana però per tutti era nonna maria da quello che ho potuto capire dalle foto che ha messo è appunto una giovane che è sempre stata molto determinata e molto molto cociuta e ha sempre saputo come ottenere quello che voleva dal dal padre partiamo intanto dal presupposto che questa storia si divide tra due archi temporali ovvero il 1933 che è quando inizia più o meno la storia per poi passare appunto agli anni della prima guerra mondiale ovvero il 1943 ovvero quando l'italia proprio l'europa entrò nel pieno del conflitto con l'arrivo degli alleati quindi perché la guerra comunque è finita verso la fine del 45 quindi gli americani però sono arrivati nel metà del 43 se non ricordo male perché io in storia sono un po' una pippa mi baso su quello che ho letto che ho letto appunto sul libro perché questo poi è molto accurato a livello storico cinzia sta alla storia come gli zombie stanno a the walking dead ecco tanto per dirvi insomma la storia è la sua passione anche ed è anche il suo mestiere e poi si divide nel 1975 quando appunto matilde sta per assistere alla nascita del suo primo nipote che spera ardentemente sia un maschio e invece poi è arrivata la nostra cinzia perché appunto la bambina il nepotino che sta per nascere in questo libro nel nell'arco temporale del 75 è appunto la nostra cinzia matilde appunto attraverso l'attesa della nascita di questo bambino che lei spera sia un maschio invece poi scopre che è una femmina rivive un po' il suo passato gli anni avenosa infatti infatti in cui era era una tipetta niente male matilde era bella cocciuta bella testarda all'inizio era anche un po' antipatica senza te l'ho detto ma poi mi hai spiegato bene come è stato l'andazzo poi della della cara nonna maria anzi chiamiamola nonna matilde perché qui comunque è matilde non è non è non è solo maria e come appunto sapeva come rigirarsi soprattutto il padre che che lei era la luce degli occhi di fausto carbiana vice prefetto di venosa un uomo anche tutto un pezzo un soldato anche che ha combattuto nella grande guerra sapeva un po' come rigirarselo come ottenere quello che invece per questo qui da più retta la figlia che la moglie vi dico soltanto questo e quindi appunto con le sue arti diciamo manipolatorie riesce a farsi mandare a bari insieme a tonino dove appunto arriva questa in questa pensione della signorina nereide che all'inizio era un po' restia prendere una ragazza in casa ma poi la diventa la sua prediletta che perché insieme condividono l'amore per la per la lettura dei classici matilde insomma la prende anche molto a cuore l'aiuta in cucina questo e quant'altro e tra questi ragazzi appunto affittuari ci sono anche dei ragazzi mario saverio e gregorio ammetto che con gregorio infatti l'ho detto anche nel live quindi cinzia sa perché sto per dire questo ad un certo punto della storia io penso io ero sicura che il vaffanculo l'avrei avuto qui e infatti purtroppo è stato così ma era così che doveva andare che sia che sia finzione o che sia realtà è così che doveva andare ma io sapevo che gregorio mi avrebbe fatto sputare un sonoro vaffanculo anche stavolta cinzia lo sa a cosa mi riferisco e sa che non è assolutamente dispregiativo il mio vaffanculo sa perfettamente che cosa che cosa intendo allora la situazione poi è complicata comunque gregorio è fidanzato è un medico è anche un po più grande i tempi sono quello che sono figuratevi state scherzando una una ragazza che 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 si innamora di un ragazzo che però è un promesso sposo che però la ama e tutto e vuole fare l'amore con lei senza essere sposati no ma stiamo scherzando stiamo scherzando cioè penso che già quando io ho un precedente di accoppiamento fuori dal matrimonio nel senso che comunque i miei nonni hanno fatto le cose per bene i miei nonni i genitori di mio padre si sono sposati che avevano lei 19 anni e lui 20 e mia nonna è arrivata all'altare già al sesto mese cioè per dire però i miei nonni hanno fatto le cose fatte per fatte bene si volevano bene comunque quando mia nonna è rimasta incinta si sono sposati per amore si sono amati per tutto il tempo che sono che sono insieme si volevano un bene dell'anima quando mio nonno è morto nel 2012 mia nonna non è stata più la stessa tanto che la sua testa è degenerata nell'alzheimer c'è tanto per per farvi capire l'ho chiamato in continuazione per mesi infatti mio nonno raccontava sempre questa storia molto goliardica che quando quando vai a sposarti ai tempi e adesso non mi ricordo neanche allora mia nonna era del 30 si è sposato a 20 anni quindi erano gli anni 50 quindi figuratevi ancora erano circa gli anni 50 e appunto sì 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 aspettate sì sì gli anni 50 circa e il prete gli fa figliolo confessami i tuoi peccati cosa ti devo confessare te l'ho portata qui è già incinta quindi figuratevi certo per dirvi che ai tempi già di questi poi soprattutto per una ragazza per bene come matilde l'idea soltanto di farsi sfiorare da un uomo senza essere sposata era una cosa indecente e aveva ragione anche perché comunque per quanto la storia con gregorio sia appassionata sia bella coinvolgente due hanno tante cose in comune sembrano sono proprio anime gemelle cioè cinzia qui ha reso matilde gregorio proprio davvero due anime gemelle due persone che dovrebbero stare insieme lui purtroppo però è già fidanzato con una ragazza che alla fine non ama perché è una ragazza che era molto che la figlia di una di un uomo a cui suo padre doveva molto e quindi quando è morto si è fatto promettere prenditi cura della mia famiglia quindi di conseguenza ha accettato di sposare sta ragazza ed erano cose che purtroppo ai tempi succedevano e grazie a dio adesso non succedono più quindi diciamo che un po' un matrimonio combinato possiamo dire così però nonostante tutto lui non se ne è sentita di lasciarlo e quindi è qui che è partito il mio vaffanculo non facciamo troppi spoiler matilde poi come ho detto è un personaggio che però mi è piaciuto nonostante all'inizio fosse un po' proprio una tipettina non troppo simpatica cinzia poi ho imparato a conoscerla abbiamo una ragazza che è determinata cucciuta intelligente carismatica elegante intanto sofisticata anche con una grazia e una nobilità d'animo credo fuori dal comune matilde è sempre stata una ragazza che non si è preoccupata tanto nel matrimonio dell'amore finché appunto non ha conosciuto gregorio ma è consapevole che non vuole essere la seconda in niente non vuole essere la la numero due ed è giusto che sia così soprattutto in amore non si può essere la numero due ma manco per il cavolo cioè io dicevo io la brava matilde diciamo veramente mandalo se questo qui non sto non vuoi lasciare la fidanzatina se già sposata mandalo la puta via ciao come dicevo io durante durante la lettura poi abbiamo tutta la famiglia carbiana che appunto il diciamo che il ruolo proprio principale tra i fratelli ce l'ha a tonino perché appunto il fratello che secondo me appunto matilde sentiva più vicino comunque vanno insieme a bari quando è nei guai chiama sempre lui e tutto quanto poi ci sono anche altri fratelli mi ha commosso molto la storia di dante di cui c'è la foto anche qui che è morto prematuramente da quello che da quello che ho capito e questo mi dispiaciuto anche per cinza insomma perdere uno zio così così presto e sempre non sono anche se non l'hai neanche conosciuto poi se non sbaglio tu cinza perché tu stavi nascendo lui era già morto nel libro quindi non credo neanche che tu l'abbia conosciuto quindi è brutta questa cosa qui cinza appunto poi questo libro è uscito poi nel giorno della memoria o meno il 27 di gennaio giorno della liberazione e ci sta perché comunque ambientato nell'arco della prima guerra mondiale ci sono tanti tanti fattori narrativi e storici sempre accuratissimi perché come ho detto cinza sta la storia come i zombie a the walking dead quindi veramente è anche accurato dal punto di vista storico ma senza essere pesante perché appunto cinza riesce a farti appassionare alla storia nei suoi romanzi senza rendere l'argomento principale perché appunto percepisci la passione che questa donna mette in questo genere di cose e veramente ti fa di di nuovo venire voglia di studiare vi dirò la verità ve lo dico io che sono una 33enne io ho imparato molte più cose sulla storia con i libri di cinza di quando andavo a scuola ve lo giuro non vi sto dicendo stronzate io veramente io vedo tante delle sue studentesse che veramente l'ho viste anche alcune sono venute anche nella live veramente come la adorano e come la rispettano e hanno ragione le ambientazioni poi sono come ho detto molto accurate si passa da venosa fino a bari poi c'è anche roma perché appunto cinza è nata a roma parigi poi parigi assolutamente non poteva mancare matilde è stata anche lì ed è appunto lì che ha conosciuto poi quello che è diventato l'effettivo amore della sua vita ovvero fabrizio che veramente mi ha fatto una tenerezza disarmante per come appunto corteggia matilde e resta subito affascinato e quando le fa la proposta lei gli risponde di sì ma gli pone le due condizioni principali ci dobbiamo sposare subito e tu devi trovarti un lavoro de sempre se no che ne minga no veramente io lì ho fatto chapeau matilde ma perché è giusto in quei tempi funzionava così non era come adesso che se ti sposi per amore anche se magari sei disoccupato oppure è un lavoro precario perché comunque è comunque trovi il modo di cavartela in un modo nell'altro in questi tempi qua bisognava sposarsi comunque con le idee chiare anche i miei nonni l'hanno fatto mio nonno comunque aveva un lavoro dopo il matrimonio si sono si sono trasferiti perché mio nonno appunto ha fatto il camionista per tanti anni poi è andato a fare il magazziniere a milano poi è andato sono arrivati fino a milano i miei nonni sono passati da gaiba che tra veneto e l'emilia poi sono passati appunto in emilia romagna per poi arrivare a milano a cormano dove poi è nato mio padre a paderno d'ugnano cioè per dirvi quanto si sono dovuti spostare anche per il anche mia nonna figuratemi mia nonna si è fatto un mazzo così tutta tutta la vita a fare le pulizie a destra manca ha lavorato anche lei in fabbrica però avevano le idee chiare si sono sposate hanno avuto mio zio e poi dopo dopo sono arrivate purtroppo due bambine che non ce l'hanno fatta sono purtroppo decedute appena nate praticamente poi è arrivato mio padre dopo nove anni quindi le cose a quei tempi si facevano per bene con le idee ben chiare ed è quello che appunto fa matilde qui il libro appunto si conclude diciamo con un estratto possiamo dire autobiografico di della della nostra cinzia perché cinzia alla fine sei tu che legge questa lettera dedicata appunto a gregorio il libro si conclude appunto con con questa lettera e io ragazzi beh che posso dirvi che altro posso posso dirvi che mi sono innamorata di nuovo di cinzia a livello di 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 scrittrice vabbè io ti voglio bene anche come persona cinza lo sai perfettamente e non posso non darle un 5 stelle pieno perché anche questo libro ha saputo emozionarmi ha saputo acculturarmi coinvolgermi emozionarmi tenermi incollata alle pagine con i suoi personaggi meravigliosi puoi sapere che anche una una storia vera è ancora più toccante ancora più bello si vede che è scritto con il cuore e con tutto l'amore che provavi per tono e sono sicura cinza che se tua nonna fosse ancora viva e avesse potuto leggere questo libro sarebbe stata assolutamente fiera di te ora ragazzi con questa nuova recensione voglio inaugurare una cosa che spero vi piaccia poi vi metterò il sondaggio se questa cosina vi piaccia visto che non so quanti di voi mi seguono su instagram se mi seguite comunque saprete che io ogni sera faccio delle dire delle delle stories in cui consiglio un libro diverso ogni sera e poi ne leggo un estrattino a caso e pensavo di fare la stessa cosa anche nelle recensioni sperando di non beccarne uno troppo spoileroso e comunque se è vero che è troppo spoilerosa mi fermo poi col montaggio sistemo tutte cose e spero che questa idea vi piaccia voglio proprio iniziare con il libro di cinza visto che è un'autrice a cui tengo e che rispetto e che ammiro e quindi dai partiamo questo gioco si chiamerà come nella rubrica il giochino dell'estrattino ovvero io metto il libro così alzo la testa lo apro su una pagina a caso e adesso vediamo cos'è uscito possiamo accompagnarlo fino a san rocco papà gli chiese alfonso fausto chiede di del permesso ad alfonso a cui si unirono anche tonino matilde e giuditta liliana e ornella avevano invece deciso che per loro era giunta loro di giocare con la nuova bambola di liana di liliana scusate nonostante alfonso non parlasse una parola di inglese lui e sam si capivano alla perfezione sam di tanto in tanto cercava di insegnargli qualche frase che puntualmente alfonso ripeteva per poi dimenticarla un attimo dopo matilde e giuditta affiancarono sempre a cercare di conoscerlo meglio where do you from domandò matilde sperando di ricordare bene la formula per chiedere da dove si provenisse your accent your accent is really good esclamò sam sorridendo compiaciuto io viene da new york matilde annui e sorrise non sapeva cos'altro chiedergli sam tirò fuori dalla tasca della giacca un pacchetto di sigarette le offri a matilde e a giuditta do you smoke chiese loro entrambe le ragazze lo guardarono perplesse giuditta scosse la testa e rivolse lo sguardo alla sua amica in cerca di aiuto matilde prese una sigaretta dal pacchetto di sam mi annui do you want to try domandò sam senza aspettare che matilde gli rispondesse il sergente le accese la sigaretta le fece scendo di aspirarla la prima boccata fu disastrosa cominciò a tossire come se avesse la bronchite tonino e alfonso la presero in giro e giuditta le diede delle pacche sulla schiena per aiutarla a espellere il fumo sam rideva di gusto piano piano le disse mostrandole come doveva aspirare il fumo il secondo tentativo andò meglio la testa non le girava più e si sentiva più sicura quando sam le diede in regalo un pacchetto sigillato matilde accettò con un sorriso smaiante era diventata una donna adesso fumava come le dive del cinema se lo dite a papà vi frusto esclamò rivolta ai due fratelli ecco questo è un estrattino molto molto semplice in cui appunto matilde si approccia al fumo è proprio abitudine non molto sana ma ma vabbè o de gustibus io sinceramente non capisco io non ho mai capito infatti io ho due genitori che fumano non capisco che cosa si trovano ad avere il catrami in bocca però vabbè de gustibus non disputamus quindi spero che questa nuova cosa vi piaccia vi metterò il sondaggino nelle schede se lo vorrete anche nelle prossime recensioni il giochino dell'estrattino si chiama così è un nome che gli ho dato proprio a cazzo una delle serie in cui ho iniziato appunto a fare questo consiglio letterario su instagram spero che vi piace spero che sia piaciuto anche a cinzia se nel sondaggio vincersì ci saranno anche nelle prossime recensioni il giochino dell'estrattino io poi adesso voglio non l'ho fatto alla fine della recensione voglio ringraziare qui cinzia per la sua sempre fiducia immensa e per la sua amicizia e per avermi messo nei ringraziamenti di questo libro non vi dico come come mi chiamo veramente perché sono a fare i miei e comunque ci sono io sono tra i ringraziamenti di questo libro io non posso che ringraziarla grazie di tutta la tua fiducia stima amicizia ti voglio davvero tanto bene e ragazzi davvero se amate i romanzi accuratamente storici appassionanti coinvolgenti bellissimi anche romantici e che ti tengono incollata alle pagine non fatevi scappare i migliori anni di cinzia giorgio bene questa recensione si conclude qui spero che vi sia piaciuta vi ricordo come sempre che nel link del blog dell'infobox perché comunque le recensioni librose vanno anche sul blog il blog non ha smesso di esistere troverete tutte le info riguardanti questo libro prezzo trama numero di pagine case editrice tutto quello che può servirvi per farvi un'idea vi ricordo che oggi poi è che il 31 è l'ultimo giorno in cui è possibile acquistare tutto il catalogo newton al col il 25 per cento di sconto quindi affrettatevi se ancora non avete preso questo libro quindi mi raccomando 25 per cento di sconto che è buono direi che è buono scade oggi se non sbaglio appunto l'offerta newton e vi ricordo poi che trovate sempre in descrizione tutti i miei social soprattutto isa si troverete soltanto il link di instagram perché il socio su cui sono più attiva dove faccio sempre metto tante belle foto almeno penso siano belle e faccio appunto queste storie sesterali sempre a tema libroso quindi se avete voglia venite a darci un'occhiata date solo anche solo per dare un'occhiatina alle mie foto se vi va seguitemi mettetemi qualche like che mi fate tanto 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 contenta iscrivetevi al canone al blog se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video la prossima recensione ciao a tutti